Bitonto San Michele è iniziata con i fiori in ricordo di Michele Perrini, lo sfortunato nostro concittadino morto a 23 anni sul lavoro a luglio. Ed è finita con altri fiori, quelli di giubilo delle lioncelle, per festeggiare una vittoria larghissima e che tutto l'ambiente voleva. Già, perché battere il New Cup che l'anno scorso ha tolto sul campo campionato e Coppa Puglia era un must fin da subito. I motivi di interesse non mancavano. Alta quota in classifica, derby sentito e due squadre ancora in battute. Finisce 7 a 1 in una gara dai due volti. Nel primo tempo la parola chiave è equilibrio. Lioncelle subito avanti con Moreira, ma riprese in un batter d'occhio tantini. Poi, per tanti minuti, davvero nulla, perché le lioncelle sono tese, impacciate eppure imprecise. Le ospiti attenti in difesa e poco propense a concedere spazi. Il Grimaldello arriva al diciottesimo. Filomena Ottmani, da calcio d'angolo, riporta avanti le sue. Ecco, da qui inizia un'altra contesa e la parola chiave diventa dominio. Quello delle bitontine, che nella ripresa sono schiacciasassi e dilagano altre due volte con Moreira, 14 per lei in campionato, e una volta a testa per Gressia Fontela, Cristina Caciornia, prima rete per l'ultima arrivata e Alba Diaz. In mezzo pure il clamoroso palo di Marfil Enrico e le giocate da urlo di Valeria Valenzano. Le lionesse volano e le ali sono quelle brasiliane. ovviamente voglio festeggiare con loro. Non è stata una partita facile dall'inizio. Penso che dopo che siamo andati a spogliatori mi si è aggiustato qualcosina e siamo tornati più concentrati e abbiamo fatto la nostra partita. Mister Michele Panarale, invece, sa che ha fatto un bellissimo regalo al presidente e a tutto l'ambiente. Noi non possiamo nasconderci per via degli investimenti che ha fatto il patrone Intini, per via del roster che abbiamo allestito e quindi non possiamo nasconderci. Non so dove arriveremo ma sicuramente lotteremo per stare il più alto possibile.